allora buongiorno a tutti in diretta anche questa volta dal parco della caffarella addirittura alle ore 6 e 30 con questa luce praticamente post aurora devo dire che in questo momento si sta veramente da dio qua c'è un frescolino proprio piacevole temperatura ideale che già fra un'ora e mezza andrà via quindi ho approfittato di girare ben due video adesso per evitare la canicola pomeridiana per ovvie ragioni che voi sapete quindi a corpo due video in uno e mi godo anche il fresco allora ieri avevo anticipato in bacheca che ho ascoltato bene tutta la discografia del mitico mitologico sb demore sir benedict demore che in realtà è un gentilissimo polistrumentista di los angeles tra l'altro molto bravo tecnicamente lui suona in dei gruppi anche di direzione un po' blues rock storti quindi comunque è uno che viene da una scuola di musica non è non è un impreparato conosce bene anche il pentagramma non è un rapper di questi che tu dici vabbè un rapper non sa fare un calo no questo è un musicista tutto tondo e poi c'è la passione per l'hip hop l'ho scoperto perché ieri l'ho aggiunto su instagram e mi ha raccontato un po' di cose sue e ho visto anche lì dove abita ha anche insomma strumentazione discreta specialmente roba di chitarre di di tablas di di percussioni e qualche campionatore quindi sembrerebbe più in realtà più un musicista che fa che ne so roba brasilera che che hip hop poi in realtà anche per lui è ispanico quindi non c'è solamente da quelle foto non direbbe che sia un hip hop non ha per niente l'iconografia del b boy è proprio un tipo un po' potremmo dire alla bob marley coerasta o alla che ne so alla mar steward in versione in versione india ecco ecco il suo vero nome l'ho segnato qui e christian mclaurin a più o meno l'età non lo so ma avrebbe io credo abbia circa una trentina d'anni e quando ho visto che lui ha citato nella pagina instagram la scheda di scaruffi che lo magnifica e io guardi io scaruffi lo conosco e to aska ruffi saluta me lo qua la eccetera lo devo ringraziare tantissimo mi ha fatto degli elogi fantastici io non lo conosco proprio ma ma proprio fatto una una vivisezione della mia musica la proprio presa in pieno pur senza cioè loro non si sono neanche scambiato di una mail cioè che piero fa così lui va sui bank amp vari così le cose che gli interessano le mette gli piacciono ma non è che contatta l'artista prende parte e fa la scheda è così io invece no a me piace anche poi contattare l'artista avere un riscontro detto lui magari lo fa se lo deve intervistare ma sui sito mi pare che adesso l'intervista ne fa poche e quindi insomma ma 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 detto insomma di ringraziarlo a nome suo grazie mille eccetera io gli ho detto guarda io oggi farò un video su di tese poi ti mando quello e tal sì sì ok 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 allora lui ripeto è rimasto alla gloria dei cieli per questo album veramente misterioso detto el negro che uscì prima nel 2013 con una copertina perché era un mixtape con una copertina differente con lui vestito un po in pose rinascimentali vestito proprio da conquistador del tipo di agir furore di dio poi fu ristampato con la copertina che noi sappiamo nel 2014 con lui con i baffetti in bianco e nero sempre con 18 pezzi vabbè ma il disco è quello insomma praticamente non cambia niente cambia solamente la foto di copertina allora quel disco lì io nonostante l'abbia ascoltato dieci volte ancora non riesco a definirlo cioè è un qualcosa di io gliel'ho detto come caspita è fatto a trovare tutte queste combinazioni di di suoni di campionamenti di suoni acustici di pezzi di sprazzi di musica classica contemporanea di esotica tutto messo là dentro e ci ho provato ho mischiato tutto ha detto così però ho fatto ho fatto proprio mi è venuto bene il mescolone così ma è proprio tranquillo è tranquillissimo infatti io vi consiglio di aggiungerlo su instagram perché è una persona simpaticissima lui ecco dovete cercarlo come come christian mclaurin però sta là sopra come christian mclaurin e poi c'è scritto anche tra parentesi sb demur però lo trovate sotto quel nome lì e niente io ripeto ancora sono 18 brani di un disco che inizia un po' parasinfonico poi diventa un qualcosa come gp mafia poi a un certo punto diventa un qualcosa come un sinfonismo dodecafonico inizio anni novecento poi ci stanno sprazzi di stravinsky io ho sentito pure bernard herman delle colonne sonore di hitchcock ci ho trovato della lounge ci ho trovato delle cose zappiane chiaramente perché chiunque faccia queste cose strambe si fa sempre comunque a zappa e ci ho trovato anche le produzioni quelle un po' ciclopiche orchestrali di jim steiman quello di fandoras box perché ha anche queste partiture orchestrali un po' leggermente pompose però che nel contesto ci stanno bene e calcolate che lui ha fatto tutto da solo non è che c'è un produttore ha fatto tutto con naggegetto un campionatorino credo proprio tra l'altro c'è molto molto con una strumentazione di molto inferiore a quella che usa per esempio gp mafia gp mafia già c'è una strumentazione più più avanzata lui ha fatto proprio tutto all made man cioè tutto proprio do it yourself dentro casa completo proprio ha registrato completamente dentro casa sua a los angeles e poi ci stanno appunto questi pezzi poi più hardcore più tirati più con lui che rappa proprio pezzi proprio in pop proprio convenzione più più convenzionali però sempre con questi elementi devianti dentro che ti fanno capire che insomma è il pop ma non il pop e più si lontana dall'hip hop e più si diventa un genere completamente indefinibile indifferente ci stanno anche sì io ho sentito anche sinfonismi alla Mahler dentro chiaro tu dici basta che c'è un cd di Mahler lo metti dentro lo campioni e lo fai però questo è facile da fare perché lo saprei fare pure io in tutto sommato però bisogna vedere in che contesto lo fai perché lui l'ha fatto con molto gusto e con l'hip hop l'ha saputo unire molto 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 bene ed è veramente uno dei dischi più originali e non solo di pop ma proprio originali degli ultimi 20 anni 30 anni 20 anni perlomeno e non solo di pop perché qui è anche improprio parlare di abstract hip hop qui stiamo siamo ben oltre stiamo proprio in un'opera d'arte unica che va presa dall'inizio alla fine per i 18 brani che dura quanto durano ora è tutta un'ora te lo devi sentire anche i testi poi sono anche interessanti anche un po anche sull'ironico perché lui insomma fa la cosa lì del conquistador dello schiavo saraceno insomma è tutta un po' una burla di quello che fu insomma lui è molto auto ironico poi ecco lui fece anche degli altri dischi che quelli non avevo ascoltato io feci male e sì effettivamente come dice scaruffi sono dei dischi buoni riusciti a metà però a me cavolo certe cose sue tipo industriali un pezzo c'è un disco che si chiama praticamente allora qui ho segnato tutto del allora ci sta borzatti sia meser upsold uno del 2005 che un praticamente una serie di bozzetti garage buttate lì che lui ha un po' provato a fare un po' in cameretta perché lui spazia molto lui va anche al garage al blues cioè sono tutti degli incompiuti che lui lascia come dei demo e poi forse dopo ci ritorna sopra e ci ritorna sopra e li rifà poi c'è il suo concept cyberpunk del 2018 che praticamente sì e questo è il suo disco forse più sperimentale in quel senso cyberpunk almeno così è il titolo impuntato del 2017 è vero che come dice scaruffi ci sono dei pezzi che sembrano un po' troncati lì e non finiscono però i pezzi in hardcore digitale che ci stanno e beh quelli valgono il miglior digital hardcore del mondo cioè io mi ricordo che c'erano gli antipop consortium che facevano questo tipo di hip hop digitale ma lo facevano in maniera molto molto più blanda anzi adesso tra l'altro ho trovato usato il primo album degli antipop consortium non quello che c'avevo quell'altro quello giallo appena mi arriva ve lo presento perché quello comunque è un disco storico ma quello è in unghia del piede in confronto rispetto a quello che si sente qua poi c'è ancora questo è il concept del 2018 e ci stanno appunto sì dei pezzi che sembrano non finiti però tutto sommato insomma è un disco molto 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 interessante poi che ci sta ancora eh the spirit real final eh del 2019 eh che pure sì è un altro esempio anzi no questo è un esempio di indie indie alla sua maniera quindi anche ha tentato un po' la strada un po' dell'indie rock eh ha tentato anche quella insomma le tenta un po' tutte poi c'è un hip hop brumoso di Bryce Venus Bryce Venus del 2020 in cui ci sono solo quattro brani di questi hip hop che sembra un po' sotterrate o sotterrato sotto delle sabbie mobili diciamo che non è riuscitissimo l'esperimento però è interessante perché comunque dà un'idea di un hip hop abbastanza abbastanza differente poi che ci sta qua ancora io ho segnato un po' tutto eh made in voyage suite ecco made in voyage suite del 2016 invece ritorna proprio a alle stesse tematiche di El Negro El Negro però in versione ridotta quindi molto di meno sono due pezzi uno più orchestrale l'altro più hip hop e questo è giusto tra il tune in on tra El Negro e questo e secondo me funziona abbastanza bene poi ci abbiamo che si si è di allaccia appunto a El Negro poi abbiamo l'ultimo del 2022 in Babylon e il suo ritorno all'hip hop vero e proprio ecco questo è il suo ritorno al vero e proprio che è un buon disco hip hop chiaramente senza quella vena così eclettica e geniale come El Negro però è un disco hip hop secondo me di tutta di tutto rispetto cioè se a quello posso dare un sette e mezzo otto a questo un set e mezzo buono glielo do perché comunque è un hip hop fatto molto bene e con questo disco del 2022 siamo in Babylon ed è rimasto ed è ritornato ai climi hip hop ecco quello che lui forse dovrebbe un po' fare ordine nella sua testa e capire bene come organizzare il lavoro perché è un po' troppo dispersivo cioè ha fatto un grande capolavoro poi tanti bozzetti d'odore molto buoni e questo qui che si chiama cyberpunk scritto puntato che potrebbe essere uno dei suoi massimi capolavori se solo finisse i pezzi che non sono finiti perché se se li finisse e non fossero solamente solo un po' abbozzati così avremmo un altro il Negro e anzi anche anche più cattivo e più scuro perché il Negro sì è vero che è più eclettico ma questo c'ha cioè se voi pensate l'ultimo G per mafia è immaginate l'ultimo G per mafia ma all'ennesima potenza cioè nel senso raddoppiatelo al quadrato ecco ai light down eccetera tra l'altro lui è amico di G per mafia e di backwash quindi c'ha anche ottimi amici ecco detto questo io gli faccio tanti auguri gli manderò poi questo video perché lo aspettava gli saluterò Piero Scaruffi se riesco a salutarlo e niente segnatevi alla sua pagina instagram che è veramente un tipo tranquillissimo proprio cioè come di stasera se andiamo a fare una pizza a lui cioè proprio abbiamo chiacchierato così per niente rockstar anche perché certo non è che ha la popolarità delle delle grandi delle grandi star dell'hip hop quindi è uno che tra l'altro ho detto suona la chitarra suona i bonghi suona le tablas cioè tu lo vedi sembra tutto tranne un hip hopper e quindi questo per il resto insomma grazie per il negro per questo grande capolavoro che ci ha dato speriamo che non sia un episodio isolato e ce ne regali anche anche altri e dopo gli mando invito e lo saluto anche da parte vostra grazie a tutti